Si è lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovati a tutti voi, miei cari figlioli, per questa annunciata catechesi dal titolo, è scomparso il titolo, la Madonna Assunta in Cielo. Il titolo esatto è il Dogma dell'Assunta, la Madonna in Cielo. È una catechesi che intende prepararci alla prossima, ormai prossima, solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo. È una catechesi che vuole approfondire il tema mentre l'opera di sciacallaggio bergoiano prosegue indisturbata. Noi ci concentriamo sulla Madonna in queste sere. Questa sera vorrei proprio riflettere con voi sul tema appunto dell'Assunzione di Maria. Che cos'è questo dogma? Che cosa significa questo dogma dell'Assunta? Allora, partiamo anzitutto da un punto di vista concettuale. Esistono due tradizioni sull'Assunta che poi convergono. La prima tradizione è quella della cosiddetta Dormizio Marie. Dormizio Marie. In greco, koimesis teofoku. Cioè, il sonno. Il koimesis in greco vuol dire il sonno della Madonna, della Beata Vergine Maria. Questa è una prima tradizione. Una seconda tradizione, invece, più tardiva, parla di Assunzio. Voi notate subito che sono già due cose diverse. Cioè, un conto è l'Adormizio, la koimesis teotoku, cioè l'Adormizione, il sonno di Maria. Un'altra cosa è l'Assunzione. La koimesis teotoku, cioè l'Adormizione di Maria, è la più antica tradizione che riguarda il destino finale della Beata Vergine Maria. Cioè, anche se voi guardate l'iconografia che riguarda la Madonna assunta in cielo, l'iconografia orientale, bizantina, ortodossa, e notate sempre che c'è la Madonna distesa nel letto, circondata dagli angeli e dagli apostoli, e poi nostro Signore Gesù Cristo, peccato che non l'ho preparata, che viene a prendere la Madonna come l'anima di Maria, che è un'anima bambina, perché è molto bello questo, no? Cioè, veramente in poche parole, con poche immagini, si dice tu, ah, questa è l'immagine. Bene, sì, eccola qui, guardatela bene, eccola, vedete? Questa è l'iconografia orientale, vedete che c'è la Madonna distesa nel catafalco, nel letto, gli apostoli e gli angeli attorno, e nostro Signore Gesù Cristo, dentro il guscio di una mandorla che indica l'immortalità, e che prende, guardate bene, l'anima della Madonna, vedete? Ve la metto in primo piano, l'anima di Maria, eccola qui, guardate bene, è rappresentata come una bambina. È un'immagine molto bella questa, perché indica l'innocenza, la purezza, la freschezza, la genuinità, il candore di quest'anima che infatti è immacolata, no? Ecco, questa è l'iconografia orientale. Mentre l'iconografia latina è diversa. Forse l'immagine più famosa della Madonna assunta in cielo è quella del muriglio, che appunto non c'è più la Madonna distesa, non c'è più la Madonna distesa nel letto, non c'è nostro Signore Gesù Cristo che viene a prenderne l'anima, e notate che c'è il corpo della Madonna, no? Che giace, diciamo, a catafalco nel letto della morte, e invece c'è l'anima bambina che il nostro Signore Gesù Cristo porta in cielo. Invece nella tradizione occidentale, probabilmente questa è l'immagine più famosa, o una delle più famose, eccola qui, c'è la Madonna assunta in cielo del muriglio, dove, come notate molto chiaramente, non c'è più la scenografia di Maria che si addormenta, che muore, e l'anima che esce dal corpo e che il nostro Signore Gesù Cristo accoglie. Ecco, già da questo aspetto iconografico capite molto bene che sono due tradizioni, quella della coimesis theotoku, cioè della dormizione di Maria, e quella della assunzio, beate virginis Marie, che sono andate avanti per linee direttrici parallele, e che però a un certo punto si sono incontrate. Chiaro questo? Ecco. Allora, vediamo di sondare innanzitutto le due linee direttrici. Pio XII, il Papa Pio XII, le metterà insieme, capito? Le metterà insieme. Ma vediamo di esaminarle. Anzitutto la coimesis theotoku, cioè l'addormizione di Maria. Allora, c'è la Madonna che si addormenta. Che cosa succede? Chi è andato a Gerusalemme si ricorderà che cosa è accaduto a Gerusalemme, cioè che cosa è accaduto, che cosa c'è a Gerusalemme circa gli ultimi momenti della vita della Madonna. Ci sono due luoghi di culto. C'è la chiesa dell'addormizione di Maria, appunto, sul monte Sion. Chi è stato a Gerusalemme lo sa, vicino il Cenacolo, c'è la chiesa dell'addormizione retta dai benedettini tedeschi, e c'è proprio la Madonna distesa nel letto morta, con le mani giunte, così. È una bellissima effigia, magari si può cercare, della chiesa dell'addormizione a Gerusalemme. Invece c'è proprio la Madonna che è morta, che dorme, che dorme nel sonno della morte. E questo nella chiesa che si trova a Gerusalemme, nella basilica dell'addormizione. Ma sempre a Gerusalemme, poi, nel Gezzemani, ai piedi, diciamo, presso a poco, a ridosso dell'orto degli olivi, dove Gesù ha sudato sangue, c'è la chiesa del sepolcro di Maria. Interessante questo. E te scendi in questa chiesa. Ecco, intanto sono in grado di mostrarvi. Questa è la chiesa dell'addormizione sul monte Sion. Vedete che c'è proprio la statua della Madonna. La vedete? Eccola qui. È un'immagine che sono stato cinque volte a Gerusalemme e mi ha sempre molto colpita. E proprio si vede la Madonna che è distesa nel letto di morte. E giù all'orto degli olivi, vicino all'orto degli olivi, c'è la cappella della sepoltura di Maria. La sepoltura di Maria, e la cosa interessante, non so chi di voi è stato interessante e se lo ricorda, è che questa cappella ha una caratteristica. Cioè la tomba vera e propria di Maria, che sembra richiamare un po' il santo sepolcro di Gesù, ha una caratteristica. Non so chi di voi se la ricorda. Il tetto, una parte del tetto è scoperta. Volutamente lasciato tale. Perché c'è un riferimento, come ora vedremo, alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Esiste un testo, detto apocrifo, quindi un testo non riconosciuto dalla Chiesa, che però mette in luce quella che è l'ultimo momento della vita della Madonna. Intanto vi mostro anche l'interno della cappella dell'assunzione di Maria. Eccola qui, ve la mostro così rapidamente. Vi stavo dicendo che uno dei più antichi testi che riguardano ciò che è accaduto alla Madonna alla fine della sua vita, perché i Vangeli non ne parlano, non ne parla l'Apocalittura, insomma non ci sono testi biblici che raccontano del dogma dell'assunta. Allora esiste un testo apocrifo che si chiama Transito della Beata Vergine Maria, in cui la Madonna aveva chiesto, guardate che bello, aveva chiesto a Gesù di avvertirla della propria morte tre giorni prima. Ora questa cosa che può apparire apocrifa, leggendaria. Ma guardate che oggi noi abbiamo celebrato la messa, ho visto che è piaciuta molto del santo curato d'Ars, no? Del santo curato d'Ars, e il santo curato d'Ars ha comunicato lui che sarebbe morto quel giorno. Lo stesso ha fatto padre Pio, lo stesso ha fatto San Gaspare del Bufalo. Tantissimi santi hanno comunicato alcuni il proprio giorno, altri addirittura all'orario, come San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce ha comunicato l'orario in cui sarebbe morto, per rivelazione divina. È una cosa che io trovo, che mi ha sempre sconvolto, io spero che il Signore con me non lo faccia, perché non sono a quelle altezze lì, un po' di fifa mi verrebbe, quindi è meglio morire senza piena del tutto avvertenza. Comunque sia, comunque sia, ci sono stati i santi che hanno annunciato prima la propria morte. Per esempio, ieri, il 10 agosto, era la festa di San Lorenzo, vi ricordate che vi ho raccontato che il Papa Sisto va a morire, San Lorenzo vuole morire con lui, e allora San Sisto, il Papa, gli dice, ma no, ma tu aspetta, fra tre giorni sarai anche tu dove sono io. e quindi non deve stupire che la Madonna abbia chiesto, ma succede di tutto, veramente appena prendo parola io, è una cosa impressionante, e non deve stupire, eccolo lì, che la Madonna ha chiesto a Gesù che fosse avvisata tre giorni prima della propria morte. Questo lo racconta sempre questo testo apocrifo dal titolo Transito della Beata Vergine Maria. E la promessa fu mantenuta. Il secondo anno dopo l'ascensione, Maria stava pregando quando le apparve l'angelo Gabriele, quindi due anni dopo che Gesù era asceso al cielo. Teneva un ramo di palma l'arcangelo Gabriele e le disse, fra tre giorni sarà la tua assunzione. Quindi, secondo questo testo apocrifo, la Madonna è andata in cielo addirittura appena due anni dopo Gesù Cristo, dopo la risurrezione e l'ascensione al cielo di Gesù. E il testo continua, cito adesso il testo, la Madonna intanto convoca al proprio capezzale Giuseppe d'Arimatea, che vi ricordate era membro del Sinedrio, che si era preso cura di custodire il corpo di Gesù e di offrire anche il sepolcro nuovo, e altri discepoli. La Madonna dice, sto per morire. Adesso ascoltiamo questo testo apocrifo, molto gustoso. Guardate, non è il tema di questa sera, però dovremmo prima o poi trattare di questi testi apocrifi, perché l'idea che siano apocrifi li ha demonizzati, questi testi. No? Ora, non è così. Una parentesi, dal punto di vista teologico, i testi apocrifi si distinguono da quelli canonici, ma non significa che sono tutti testi leggendari o da rigettare in toto. Per esempio, il protovangelo di Giacomo ci dice, e sono cose passate nella tradizione cattolica come si chiamavano i genitori della Madonna, e tanti altri dettagli, la purificazione di Maria, la presentazione al Tempio, tante altre storie che sono passate poi anche nella liturgia. Quindi, non tutto è da rigettare dei testi apocrifi, e sono molto gustosi talora. Ecco, allora, leggiamo cosa dice il transito della Beata Vergine Maria. Dice, leggo, e cito proprio il testo. Venuta la domenica, attenzione, la domenica, il giorno del Signore e il giorno della risurrezione, Maria è del tutto partecipe della sorte del figlio. All'ora terza, cos'era successo all'ora terza di una domenica? La Pentecoste. All'ora terza, alle nove del mattino, gli atti degli apostoli raccontano che era sceso lo Spirito Santo. Trovo che qualcosa già questo, l'incipete è assolutamente splendido. C'è l'ascensione, la risurrezione, e c'è la Pentecoste, lo Spirito Santo, eccetera. Dunque, Cristo con una moltitudine di angeli scese e, attenti qui, accolse l'anima della sua diletta madre. Quindi qui trova fondamento l'iconografia bizantina, cioè di Gesù che il corpo lo lascia lì, il corpo lo lascia lì, il corpo di Maria viene lasciato lì e porta in cielo l'anima immortale di Maria. E fu tanto lo splendore, continua il testo, di luce e il suave profumo mentre gli angeli cantavano il cantico dei cantici, o, vedete conto, mentre la Madonna va in cielo gli angeli cantano il cantico dei cantici. Io, a settembre, se pregate per me, perché ho bisogno di tante preghiere, ho finito poc'anzi di tenere un'intervista di un'ora e mezzo con Mori San, che andrà in onda sul suo canale, veramente un'intervista molto avvincente. Io voglio, voglio lavorare e spendermi fino in fondo, ma voi dovete pregare per me. A settembre vorrei iniziare un ciclo di catechesi sul cantico dei cantici, che è un testo semplicemente splendido. Allora, sapere che gli angeli, già questo dice che cos'è la Pasqua di Maria, che cos'è l'assunzione al cielo di Maria, si sente, che cos'è l'assunzione al cielo di Maria. Cioè, gli angeli cantano il cantico dei cantici. Non so se siete d'accordo con me. È un testo apocrifo, però, che light motive, che sottofondo musicale. Ecco, a punto a cui il Signore a un certo punto dice come un giglio tra le spine, tale è la mia amata fra le fanciulle. Questo è il cantico dei cantici, ma ha una sua legittimità teologica come un giglio fra le spine. Perché l'anima di Maria è un giglio fra le spine? Perché tutti siamo stati concepiti col peccato originale e quindi siamo come le spine. Invece, l'anima di Maria è un giglio tra le spine, perché la sua anima è stata concepita senza il peccato originale. E tale fu la gloria che gli apostoli e i presenti caddero a terra come quando Cristo si trassicurò sul tabor. Qui c'è una deliziosa comparazione del momento in cui Gesù viene a prendere l'anima della madre che identifica il momento di gloria con quello del tabor quando Gesù si trassicura. Aggiunge il testo apocrifo poi la luce si allontanò e insieme con essa fu assunta con questa luce in cielo attenti qui l'anima della beata Vergine Maria quindi l'anima non ancora il corpo in un coro di salmi e cantici spirituali e mentre la nube si elevava tutta la terra tremò e in un solo istante tutti i gerosolomitani videro chiaramente la morte della Santa Maria cioè a Gerusalemme qui c'è un richiamo alla morte di Gesù vi ricordate quando Gesù muore si oscura il sole trema la terra terremoto si aprono i sepolcri sono avvenimenti cosmici allora l'autore del transito della beata Vergine Maria vuole dire che la morte di Maria somiglia a quella del figlio anche negli avvenimenti cosmici cioè gli abitanti di Gerusalemme si accorgono che era morta la madre del Signore e qui adesso viene il bello ringrazio chi me lo ha reso noto questo testo è di San non mi ricordo il nome un padre della Chiesa guardate ascoltate adesso in quel momento Satana istigò gli abitanti di Gerusalemme presero le armi e si diressero contro gli apostoli per ucciderli e impadronirsi del corpo della Vergine che volevano bruciare ma una cecità improvvisa impedì loro di attuare il proposito e finirono per sbattere contro le pareti gli apostoli fuggirono con il corpo della Madonna trasportandolo fino alla valle di Giosafat dove lo deposero in un sepolcro in quell'istante narra ancora questo testo apocrifo transito della Beata Vergine Maria li avvolse una luce dal cielo e mentre cadevano a terra attenti qui il santo corpo fu assunto in cielo dagli angeli questa è un'estrema sintesi di tutti i dati che poi la tradizione oltre che apocrifa diciamo così mistica ha portato avanti perché i mistici si sono molto sbizzarriti diciamo a dire il vero a riguardo dei momenti ultimi della vita della Madonna e della verità si sono dati un grande da fare per cercare di descrivere come sono andate le cose e qualche volta probabilmente ci hanno messo anche del proprio nel senso che talora si smentiscono tra di loro e questo complica in fondo un po' le cose nel senso che a un certo punto ci si domanda che cosa ci sia di reale sulle narrazioni mistiche ecco vi leggo per esempio che cosa scrive fra tutte Maria da Greda questa mistica che ha scritto la mistica città di Dio la vita della Madonna con delle visioni dice che dopo che San Giovanni Apostolo e tutti gli apostoli giunsero per dare addio a Maria che muore il venerdì 13 agosto dice Maria da Greda e però invece due giorni dopo c'è l'assunzione alle tre del pomeriggio e risuscita come Gesù suo figlio tre giorni dopo il 15 agosto per essere assunta in cielo dice anche che Maria scelse di morire per imitare Gesù perché lui aveva lasciato la scelta se voleva salire subito in paradiso senza passare dalla morte e comunque si parla di una sepoltura appunto ve l'ho letto poco fa della Madonna nella valle di Giosafat e vi ho detto all'inizio di questa catechesi che c'è a Gerusalemme una chiesa del sepolcro di Maria altri mistici dicono che per esempio la Madonna salutò uno per uno gli apostoli salutò uno per uno gli apostoli prima di morire e poi fu sepolta appunto in questa chiesa e vennero a prenderla il suo corpo vennero a prenderlo l'arcangelo Gabriele e l'arcangelo Uriele ecco questi due arcangeli vennero a prendere il corpo della Madonna ma Maria Valtorta invece dice tutt'altro per esempio dice che solo San Giovanni ha assistito piangendo alla morte di Maria e ha composto addirittura il suo corpo sul letto di morte e vegliandolo per tre giorni dicendo che Maria non ebbe alcun sepolcro ma che dice Maria Valtorta si aprì il tetto della casa e gli angeli trasportarono il suo corpo in alto fin quando l'anima che era stata portata già in cielo tre giorni prima si riunisce al corpo resuscitandolo in forma gloriosa ecco naturalmente chi legge i mistici e fa molto affidamento a quei testi lì si pone delle questioni serie cioè chi ha ragione tra i mistici guardate la soluzione miei cari figli sta in questo non assolutizzate mai come domanda di fare la chiesa i mistici fate come faccio io che seguo quello che madre chiesa insegna io impazzisco per le letture mistiche però anche vedo enormi differenze tra Maria Valtorta Maria da Greda Caterina Emmerich allora la soluzione sta nel non assolutizzarli ti gusti quello che scrivono ma non assolutizzi e questo è talmente vero che nella bolla di proclamazione del dogma dell'assunta Pio XII non entra volutamente nel merito dei dettagli chiamiamoli tecnici dell'assunzione non spiega queste cose qui cioè che è morta prima il 13 agosto poniamo che il corpo poi è rimasto lì e gli apostoli lo vegliavano piuttosto che non Giovanni da solo ma a Defeso è morta a Defeso oppure è morta a Gerusalemme è stata sepolta a Gerusalemme allora il corpo com'è che è stato sepolto e poi capite c'è una pletora di diciamo chiamiamole note teologiche letterarie che difficilmente è possibile armonizzare allora qual è la cosa da fare la cosa da fare è che quando ti trovi come è capitato a me da studioso da teologo che approfondisce queste questioni di fronte a questo patrimonio che è lo ripeto piuttosto non biblico ma dei testi apocrifi poi della letteratura patristica che su questo è soprattutto quella orientale è straordinaria e poi ti trovi di fronte ai testi dei mistici cogli la sostanza della questione cioè si contraddicono tra di loro circa gli aspetti formali mi seguite? per esempio Maria Valtorta dice che se ne sale in cielo direttamente da casa sua mentre il transito della Beata Vergine Maria questo testo apocrifo racconta che invece c'era stata sepolta e tre giorni dopo sale in cielo è solo un dettaglio un'altra differenza che fu solo l'apostolo Giovanni ad accudirla mentre la maggior parte dei testi dicono che tutti gli apostoli l'assistettero c'era persino l'apostolo Paolo capite? questi sono aspetti formali che non è necessario risolvere perché non toccano la sostanza del dogma infatti al di là delle differenze formali sostanzialmente tutti i testi apocrifi letterali mistici confermano il dato comune cioè che la Madonna è stata assunta in cielo questo appio XII può bastare come elemento concordante della tradizione perché se cambiano gli aspetti formali narrativi mi capite tante volte anche solo estetici non cambia mai la sostanza tutti i testi mistici letterari apocrifi eccetera confermano che la Madonna è stata portata in cielo in anima e corpo capito? non so se su questo sono riuscito a spiegarmi bene io volevo fare tre passaggi se questo primo passaggio è chiaro voglio fare adesso il secondo passaggio il secondo passaggio è ma allora se nella scrittura non c'è da nessuna parte scritto che la Madonna è stata assunta in cielo come la risolviamo la questione e qui si rivela tante volte l'ho detto l'inganno metodologico neoluterano Lutero aveva detto solo la scrittura cioè è vero solo ciò che c'è nella scrittura infatti lui nega il dogma non crede alla virginità di Maria non crede alla immacolata non crede all'assunta meno che meno nonostante i padri della chiesa ne avessero parlato perché nella Bibbia non c'è scritto ma il principio che vale solo ciò che c'è scritto nella Bibbia è un principio metodologico non cattolico è luterano perché per noi cattolici attenti bene perché io quando ho studiato teologia pensavo che tutti lo sapessero questo in realtà lo sa quasi nessuno e lì nascono i guai perché per noi cattolici sono due le fonti con cui Dio si rivela la sacra scrittura e la tradizione quindi anche alcuni contenuti dommatici come quello dell'assunta che non sono presenti in maniera diciamo manifesta nella sacra scrittura però confermati da un patrimonio della tradizione sono riconosciuti legittimi mi sono spiegato su questo passo adesso a dimostrarvelo nella sacra scrittura noi non abbiamo testi che raccontano espressamente il dogma dell'assunta però Pio XII fa un'indagine la trovo una cosa molto bella di un paio di testi che lui dice possono essere riferiti indirettamente all'assunta ve li cito perché li possiate gustare il primo testo è Genesi 3,15 il protovangelo della salvezza porrò inimicizia fra te e la donna dice Dio al serpente ecco Maria è la nuova Eva la nuova Eva è strettamente unita al nuovo Adamo che è Gesù Cristo sebbene a lui subordinata per cui come Gesù Cristo è risorto dai morti e ha assunto pienamente la gloria del paradiso così Maria che la nuova Eva deve partecipare della gloria del figlio è meraviglioso come diciamo esplicitazione teologica altro testo che viene citato Esodo 20,12 che dice onora tuo padre e tua madre e allora i teologi dicono dal momento che Gesù è figlio di Maria non poteva come osservante perfettissimo della divina legge non onorare oltre che l'eterno padre anche la madre potendo quindi dare alla madre tanto onore preservandola immune dalla corruzione del sepolcro si deve credere che lo abbia fatto realmente quindi è un tributo d'amore e di filiale devozione che il figlio rende alla madre secondo la parola del padre celeste onora tuo padre e tua madre e secondo questa tradizione peraltro anche San Giuseppe ma non posso approfondire il tema adesso sarebbe addirittura anche lui in cielo in anima e corpo ma questa è un'altra tradizione un altro testo ancora ne abbiamo già visti due Isaia 60 capitolo 60 versetto 3 glorificherò il luogo dove poggiano i miei piedi qui il testo si riferisce ma vedete guardate quanto è bello poi riflettere da cattolici questo io sto cercando di fare sto facendo di fare una terapia cattolica guardate che bello il testo si riferisce con ogni evidenza glorificherò il luogo dove ho posto i miei piedi al tempio di Gerusalemme dove c'è l'arca dell'alleanza ma i padri in questo testo hanno visto il fatto che il corpo della Vergine è il sacrario il suo grembo dove Dio ha posto il proprio piede e allora dice Dio io glorificherò il luogo dove ho posto i miei piedi e qual è il luogo dove Dio con l'incarnazione ha posto i suoi piedi se non il corpo di Maria e così Gesù Cristo lo glorifica uno dei testi è il quarto tra i più famosi è il salmo detto Epitalamio regale il salmo 44 alla tua destra siede la regina in ori di Ofir la figlia del re è tutta splendore è presentata al re in preziosi ricami entrano insieme nel palazzo del re qui vorrei farvi vedere se riesco adesso in tempo l'incoronazione della Vergine e del Beato Angelico un affresco meraviglioso che richiama questo tema qui siede la regina alla destra del re l'epitalamio nuziale regale racconta della posizione che assume la regina accanto al re la regina partecipa della gloria del re e chi è che non vede in questo diranno i padri della chiesa una una prefigurazione di Maria che come regina il re rende partecipe della propria gloria non so se lo gustate io lo trovo semplicemente meraviglioso tutto questo quindi il salmo 45 è la quarta affermazione biblica che rinvia indirettamente implicitamente al dogma della assunta ce ne sono ancora altri salmo 132 versetto 8 dice alzati signore verso il luogo del tuo riposo tu l'arca della tua santificazione i padri della chiesa i teologi hanno visto nell'arca dell'alleanza fatta con legno di acacia ve lo ricordate il legno di acacia ne abbiamo parlato tutto si richiama poi ecco qui esatto guardate qui che meraviglia è un po' sgranata purtroppo l'immagine ma si vede proprio l'incoronazione della vergine da parte del re siede la regina alla destra del re dicevo il salmo 132 hanno visto i padri l'arca dell'alleanza che è Maria e che contiene in sé come tempio del signore come corpo purissimo e virginale contiene in sé il signore allora quando il salmo dice alzati signore tu è l'arca della tua alleanza guardate che bello alzati signore tu la risurrezione ma anche l'arca della tua alleanza l'assunzione mamma mia figli cari mamma mia è meraviglioso il salmo dice alzati signore tu è l'arca della tua alleanza e della tua santificazione allora alzati signore tu è la risurrezione di Gesù Cristo ma anche tu è l'arca della tua santificazione è l'assunzione al cielo di Maria però quello che è il testo che a me piace di più dell'antico testamento tra i tanti citati non posso citar tutti è il cantico dei cantici al capitolo 3 versetto 6 come vi ho detto proveremo ad approfondire dopo la pausa estiva quale pausa dopo l'estate proveremo ad approfondire il cantico dei cantici al capitolo 3 versetto 6 la sposa la sposa che sale cito il testo dal deserto come una colonna di fumo dagli aromi di mirra e di incenso lo rileggo la sposa che sale dal deserto come una colonna di fumo dagli aromi di mirra e di incenso i padri qui hanno visto Maria che sale dal deserto del mondo come una colonna di fumo di incenso perché Maria è tutta preghiera è tutta lode a Dio l'anima mia magnifica il Signore è di mirra perché lei è la corredentrice che ai piedi della croce ha sofferto per la redenzione del mondo ma c'è una cosa in più ed è il terzo passaggio sono quattro in tutto quindi consolatevi sono già il terzo che volevo dirvi ultimamente ultimamente voglio dire negli ultimi 50 anni e non è che ultimamente significa l'altro ieri anche meno di 50 negli ultimi 30 anni a riguardo del dogma dell'assunzione al cielo di Maria si è cercato di fare un rapporto col pensiero giudaico ebraico circa le sorti finali dell'arca dell'Alleanza mi spiego meglio voi tutti sapete che cos'è l'arca dell'Alleanza ne abbiamo anche parlato nelle catechesi che meditavano le litanie della Madonna in preparazione alla consacrazione come schiavi di Maria l'arca dell'Alleanza era questo cofano di legno di acacia che conteneva le tavole della legge che fu portato con le stanghe durante la perecreazione del deserto e poi quando fu costruito il tempio fu posizionato nella stanza più interna del santuario stesso del tempio il cosiddetto Santa Santorum dove nessuno potrebbe entrare se non il sommo sacerdote una sola volta l'anno ecco la questione però che dobbiamo porci è la seguente la Bibbia ci racconta che il tempio di Gerusalemme viene distrutto vi ricordate dal re Nabucodonosor nel 597 avanti Cristo dice il testo sacro nel secondo libro dei re capitolo 24 versetto 13 che Nabucodonosor attenti bene portò via tutti i tesori del tempio deve essere stato un momento tragico nella storia di Israele lo è lo è stato sui fiumi di Babilonia la sedevamo piangendo al ricordo di Sion vi ricordate no? portò via tutti i tesori del tempio e i tesori della regia fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone aveva posto nel tempio questo è il stesso sacro che racconta che cosa ha fatto Nabucodonosor il re di Babilonia distruggendo il tempio perché Dio si era servito di lui per punire e castigare gli ebrei che pensavano che il tempio era indistruttibile la questione che subito ci si è posta tra gli ebrei stessi è Nabucodonosor che fine ha fatto fare all'arca mettiti bene perché è una questione importante cioè quando le truppe babilonesi invadono Gerusalemme radono a solo il tempio e il testo sacro dice che Nabucodonosor porta con sé tutte le cosiddette suppelletti di sacre in Babilonia gli ebrei si domandano è l'arca dell'alleanza l'ha pure distrutta le ha dato fuoco l'ha portata in Babilonia che fine ha fatto perché per gli ebrei l'arca dell'alleanza era la cosa più sacra ecco con tutta probabilità l'arca fu saccheggiata tuttavia c'è un rispetto pudico quasi un senso di sacra venerazione nel fatto che tra gli oggetti prelevati e citati dal testo sacro che Nabucodonosor porta via volutamente non si parli dell'arca dell'alleanza però dovete sapere che in un libro biblico il secondo libro dei Maccabèi che è del secondo secolo avanti Cristo si racconta che Geremia il profeta Geremia che era quello che aveva detto convertitevi non sacrificate più a Paciamama cioè ad Astarte perché se no Dio si arrabbia da qui entrava e da qui usciva e così arrivano i babilonesi e distruggono il Tempio quindi Geremia è lì sapete quello Geremia siamo nel 600 cioè nel 900 quanto è 800 500 97 quindi tra 600 e 500 avanti Cristo è lì che assiste a quello ora questo libro dei Maccabèi dice una cosa che pochi sanno che Geremia fu invitato da Dio mentre il Tempio veniva distrutto e le truppe babilonesi stavano radendo al suolo il luogo sacro corse di fretta se provate queste cose sono nella Bibbia corse di fretta secondo questa tradizione per andare a prelevare l'arca dell'Alleanza Dio gli disse in cuor suo in una visione di andare a prelevare l'arca dell'Alleanza così racconta il secondo libro dei Maccabèi e allora Geremia corre e che cosa fa preleva l'arca e seguito da un gruppo di persone corre verso il Monte Nebo il Monte Nebo è quello da cui Vosè contempla la Terra Santa senza poterci entrare e salito sulla montagna Geremia trova una caverna e lì depone gli oggetti asportati dal Tempio cioè l'arca dell'Alleanza e alcuni di quelli che l'avevano seguito siccome Geremia aveva detto la mettiamo qui l'arca dell'Alleanza chiudiamo la caverna la grotta e quando Dio vorrà la preleveremo allora alcuni che lo seguivano hanno posto dei segni degli indizi per ma gli angeli mentre loro scendevano cancellarono tutti gli indizi quando il profeta Geremia seppe che gli ebrei che lo avevano seguito non erano più in grado di individuare la grotta del Monte Nebo dove era stata posta l'arca dell'Alleanza che non era stata sequestrata da Bucodonosor rispose il secondo libro dei Maccabei capitolo 2 versetti 4 8 il luogo dice Geremia deve rimanere ignoto finché Dio non avrà riunito tutto il suo popolo e si sarà mostrato propizio allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la nube come appariva sopra Mosè e come avvenne quando Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato perché vi sto raccontando questa tradizione giudaica su un'arca dell'Alleanza che non viene distrutta che viene nascosta in un posto e nessuno sa dov'è perché alcune testimonianze rabbiniche dicono accanto a questo che l'arca disparve e fu portata in cielo volete una prova di questo? Giovanni in Apocalisse 11 19 dice si aprì il santuario del cielo e apparve nel santuario l'arca dell'Alleanza allora con ogni evidenza ai padri della Chiesa scusate se mi commuovo cosa volete sono fatto così non risultò difficile dover identificare questa storia così suggestiva di un'arca che viene preservata dalla distruzione dalla corruzione con il corpo di Maria che viene assunto in cielo il quarto punto che vorrei dire di questo straordinario dogma dell'assunta che ci fa dolorare quando sentiamo Bergoglio che bestemmia i dogmi mariani come tonterias riguarda la correlazione del dogma dell'assunta con gli altri due grandi dogmi l'immacolata è la maternità divina perché la madonna è assunta in cielo da un punto di vista teologico per due ragioni la prima è concepita senza peccato originale ora non ho il tempo di approfondirlo per un discorso molto bello la tradizione orientale parla di coimesis teotoco cioè dell'addormizio Maria la madonna che si addormenta ma mica muore nel senso come moriamo noi ne parlavo stamattina lo spiego meglio non è facile sapere esattamente come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato il peccato originale va bene? però i teologi anche quelli come Fonbalta sar dicono che la morte era prevista nel senso che l'Eden il paradiso terrestre non era ancora il cielo il paradiso vero e proprio ma una diciamo come dire una preparazione è che per poter andare attenti bene nel paradiso definitivo bisognava che si morisse ma non come moriamo noi a causa del peccato originale e cioè questa separazione tra l'ora traumatica tra anima e corpo il travaglio della morte no? e così tutte quelle cose drammatiche no? era un sarebbe stato un addormentarsi nel Signore ad alcuni santi è stato concesso questo addormentarsi nel Signore cioè Adam ed Eva se non avessero compiuto il peccato originale avrebbero goduto della sazietà della bellezza dell'Eden e poi a un certo punto senza invecchiare senza invecchiare si sarebbero addormentati e sarebbero stati assunti in anima e corpo nel vero paradiso dove risiede Dio mi state seguendo? allora questo non è stato più possibile perché c'è il peccato originale e la morte è divenuta un affare grave traumatico ma Maria è concepita senza il peccato originale e allora ha senso il criterio di una coimesis teotoco cioè di una dormizione di Maria Maria muore come sarebbero morti Adam ed Eva se non avessero commesso il peccato originale ecco la correlazione tra il dogma dell'assunta e il dogma dell'immacolata concezione la Madonna sperimenta la morte come un assalto d'amore figlioli cari muore d'amore muore di deliquio un ultimo assalto di Dio nel suo cuore immacolato lei non regge a questo impeto assalto d'amore e allora si addormenta in Dio no? e c'è un salmo che dice preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli e quale morte più preziosa agli occhi del Signore ci può essere tra i fedeli di Dio che non sia stata quella di Maria e infine volevo sottolineare la correlazione tra il dogma dell'assunta e il dogma come vi ho detto della maternità divina che se volete è ancora più significativo Maria ha portato per nove mesi in grembo il figlio di Dio cioè io vorrei che questa cosa noi mi sembra che oggi accanto alla piaga neo-ariana ci sia un problema di neo-docetismo cioè chi erano i docetisti? da quelli che dicevano che l'incarnazione non è reale però da un altro punto di vista non perché Dio non riusciva a farsi uomo ma perché l'uomo non poteva mai pienamente essere Dio e allora l'incarnazione era per i docetisti qualcosa di simbolico ma in realtà ogni donna lo sa lo dicevo stamattina io sono uomo penso di interpretare penso non lo so se è così parlo della mia esperienza penso di interpretare il sentimento che l'universo maschile prova dinanzi a una donna incinta è un sentimento di riverenza di solennità di sacralità perché c'è il mistero che l'uomo non riesce a capire la donna lo vive sa che è un mistero però lo sta vivendo e quindi vivendolo lo conduce in una maniera talvolta così disinvolta che il maschio persino certe volte quasi quasi un po' si arrabbia perché il maschio non gli riesce a capire come caspita sia possibile che dentro quel grembo per nove mesi ci stia una vita un bambino che dipende in tutto dalla madre c'è questo cordone umbilicale che attraverso il sangue porta al feto l'ossigeno e il cibo e quella vita cresce dentro il grembo di una donna è già questo un mistero chiedo qui alle donne se mi sto sbagliando e questo è già un grande mistero e solo la donna può capirlo perché la donna lo vive anche quando non lo realizza comunque lo vive perché ogni donna è mamma e le donne capiscono questo il maschio per quanto lo ha capito razionalizzandolo sente sempre che è un mistero questo ora se questo è un mistero per ogni vita umana presente nel grembo di una donna volete voi provare a immaginare che mistero è stato questo nel grembo di Maria cioè lei nel suo grembo aveva quel dio che gli ebrei avevano paura di pronunciarne il nome capito perché la gravidanza di Maria siccome è opera dello spirito santo dice vabbè la gravidanza di Maria no il corpo di Maria l'ho detto altre volte questo a scanso di equivoci proprio io che combatto come penso saprete tutti il neo arianesimo allora mi danno del docetista perché uno dice siccome non è non è ariano è docetista no 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 io dico che il corpo di Maria ha subito quelle modifiche anatomiche che ogni donna subisce quando è incinta lei si sono gonfiati i piedi non ha avuto dolore però invece tutto il resto sì è cresciuto il seno è venuto il latte in seno perché doveva poi allattarlo questo cioè ha concepito per opera dello spirito santo però realmente aveva in grembo un bambino la gravidanza di Maria non è una gravidanza immaginaria come si dice isterica fasulla alla maniera dei docetisti era una vera gravidanza Giuseppe adorava Dio nel grembo di Maria ma vedeva proprio il grembo di Maria crescere il grembo di Maria è cresciuto Maria era una donna incinta a tutti gli effetti io trovo che questo sia da abisso estatico abisso estatico qualche tempo fa ho conosciuto una persona che aveva problemi di respirazione e mi diceva sa padre io quando ho momenti di crisi sento come se i polmoni siano pieni di cotone o di lana ecco io vi dico i polmoni spirituali quando pensiamo a questo Dio che si è andato a nascondere nei tessuti pieni di sangue di umori propri di una donna nel grembo di Maria ecco io sento i polmoni riempirsi di luce di grazia vado in estasi il cristianesimo figlio di cari ma che cosa è mai il cristianesimo Dio quel Dio eterno inaccessibile incircoscrivibile dirà Fonbalta se prende i padri della chiesa Dio si è abbreviato ma lasciamo stare questo ritorniamo a Maria lei per nove mesi si auto non so come dovrei dire non lo so come dire va nel tempio di se stessa per adorare Dio non so se vi rendete conto lei si lava si pulisce fa le cose che deve fare per nove mesi ma lei per nove mesi è monaca di clausura è non so come dire è una certosina è una cistercense è è una donna Orazio Fakta cioè lei respira e sente quel cuoricino che è il cuore umano di Dio lei ha dato il sangue a Dio tra l'altro qui andrebbe introdotta la questione anche della diciamo come dire affinità biologica che alcuni teologi hanno approfondito secondo me meriterebbe di essere approfondito questo cioè in genere quando un bambino nasce subito cosa che si fa qual è? a chi assomiglia? a papà o alla mamma? al nonno o alla nonna vero? assomiglia a ti no ma assomiglia perché il bambino la bambina prende e spartisce il patrimonio genetico va bene io sono gemello e ho fatto così ho deciso di prendere fisicamente tutto da mia mamma e da mio padre ho preso i dolori alle ossa e il reflusso di mio padre ho voluto mio fratello Massimo che è il mio gemello ci siamo spartiti il patrimonio genetico per cui mio fratello Massimo è una stampa mio padre e io sono una stampa mia madre e tutti i parenti di mia madre cioè ho preso dalla parte totale di mia madre che mio padre certe volte mi dice ma tu di minutella che hai e io piccolino sapete che facevo la professia non preoccuparti che questo cognome lo onoreremo oggi sono il don minutella famoso capito? allora ma perché noi siamo gemelli ma in genere una creatura sola da sola prende un po' del padre un po' della madre forse certe volte più del padre comunque ecco allora ma Gesù non c'era il cromosoma maschile quindi ha preso tutto da sua madre Maria era di carnagione chiara e delicata e profumata e Gesù ha preso l'epidermide chiara profumata della madre Maria aveva una complessione psicofisica delicata ed elegante e Gesù ha preso la complessione psicofisica elegante della madre capite? è qualcosa di il DNA di Gesù è un DNA mariano e questo allora per concludere vi fa capire che la correlazione tra il dogma dell'assunta e della maternità divina è sotto gli occhi di tutti e cioè dirà San Giovanni Damasceno nel settimo secolo ma prima ancora di lui Sant'Efrem il Siro da questo avrete capito quale tributo dobbiamo ai padri greci al mondo orientale smettiamola di fare un ecumenismo inutile l'ecumenismo è questo riconoscere il contributo per esempio che sui dogmi mariani hanno dato i padri orientali il mondo greco siamo debitori del mondo greco sono stati loro ad avviare il culto mariano noi in occidente lo abbiamo solo recepito e tardivamente tra l'altro alla fine del terzo secolo con l'epoca costantiniana più o meno mentre già in oriente era piuttosto avanzato il dogma mariano il culto mariano ecco vi sto dicendo la correlazione è questa dice San Giovanni Damasceno e ancora prima di lui ho concluso Sant'Efrem il Siro non poteva conoscere la corruzione del sepolcro colei che ha portato in grembo l'autore della vita è così cioè se Dio ha abitato in quel corpo lì poteva mai accadere che quel corpo potesse conoscere la corruzione del sepolcro vorrei un'ultimissima cosa ci si stupisce quando oggi i neomodernisti i neobergoianni i neotutti pieni di nei dicono che Maria non è stata assunta in cielo non è possibile è il corpo che va dove? dove va il corpo? dicono ma dove va il corpo? il corpo è capite fanno questo tipo di ragionamenti beh guardate che Dio non ha smesso mai di stupire con i corpi dei santi se voi pensate che Santa Bernardetta è incorrotta altri santi sono incorrotti circola su internet un video sconvolgente di una santa messicana santa o beata io prima di dirlo ho verificato se fosse vero ho scoperto che verosimilmente è vero questa santa è come Santa Maria Goretti e si vede una cosa sconvolgente vi assicuro sconvolgente durante una celebrazione ma questo anni fa c'è un video amatore non so se riesco a vedere che riprende diciamo in maniera prolungata con il corpo di questa santa vergine credo in Messico bene è messa così lei con gli occhi chiusi come Santa Maria Goretti e però sembra Santa Maria Goretti ad un certo momento nel video si vede che la santa gira il capo e apre gli occhi per qualche istante si vede proprio questa santa che dorme nel sonno della morte a un certo punto apre gli occhi e si volta a guardare il cameraman non mi ricordo chi è questa santa però è accaduto ecco forse Biagio me lo sta facendo vedere però è accaduto ora Dio supera le leggi della natura quindi anche da un punto di vista scientifico noi dobbiamo crearci il problema perché Dio è il padrone delle leggi della natura ecco si può vedere l'immagine il video e lo possiamo mostrare per concludere se questo è stato possibile per una santa peraltro poco nota figurarsi che cosa Dio non ha fatto con sua madre Maria in cielo in anima e corpo figli cari perché non poteva conoscere la corzione del sepolcro colei che ha conosciuto che ha portato in grembo la tua vita questa è la santa eccola qui è la sequenza di immagini guardate nella prima immagine non so se vede il mio dito eccolo qui dove ho mostrato il dito c'è la santa che dorme nel sonno della morte e guardate accanto il suo volto che apre gli occhi e accenna appena appena un sorriso di beatitudine sono i segni i prodigi che il signore compie attraverso i suoi santi molto più lo ha fatto con la madonna bene miei cari spero di non avervi annoiato e vi affido alla madonna qui c'è proprio il video ecco si vede proprio la santa che apre gli occhi ecco mettiamola così vabbè ecco non l'avevi annoiato adesso è possibile chiamare al numero telefonico in sua impressione 349 410 1638 per intervenire su questo o su altre questioni affini nel frattempo mentre aspettiamo le telefonate volevo ricordarvi che per circa un'ora passa sono stato poco fa con Mori Sun per un'intervista che verosimilmente se non stasera nei prossimi giorni forse già domani sarà pubblicata sul suo canale youtube un'intervista a Don Minutella a tutto campo vi propongo di visionarla perché secondo me può far molto riflettere si è parlato di tutto guardate e poi credo che sia stata un'intervista molto ben fatta perché si parla di Dio di Cristo della Chiesa di Bergoglio della Madonna del Terzo Segreto di Fatima insomma è un'intervista ripeto a tutto campo non so se Mori Sun la inserirà questa sera comunque nei prossimi giorni la trovate pronta c'è la prima telefonata pronto? sempre sia lodato sempre sia lodato io l'ho chiamato una volta un po' di tempo fa il famoso Bergogliano come? il famoso Bergogliano che poi aveva chiuso il telefono si ricorda? vagamente dimmi pure dimmi pure niente nel sentirla no mi stanno avendo alcuni dubbi appunto su Bergoglio no però non le vorrei esporre qua l'ho invitata su Facebook l'amicizia no per carimenti ad esempio è sempre che chiede preghiere per lui non mi tornano alcune cose niente e lei mi sta ponendo questi dubbi in tutto qua io confermo che la beata Vergine Maria tutto quello che ha detto lei è vero non mi tornano alcune cose padre sì ho capito va bene sì sì e poi quali altre cose ti colpiscono in Bergoglio oltre al fatto che chieda preghiere perché la preghiere e poi poi? non ho prove sul fatto che asserisca che non sia beata la Vergine Maria ne vorrei avere se fosse possibile ne cercherò e niente sì va bene Dio ti benedica con tutto il cuore d'accordo d'accordo ecco Dio ti benedica naturalmente non è questa la serata per parlare di Bergoglio abbiamo parlato della beata Vergine Maria assunta in cielo e per questa sera credo possa bastare per quello che riguarda mio caro amico che chiami dalla Sardegna se ho capito bene la questione circa il rapporto di Bergoglio col culto mariano ti invito a seguire le mie catechesi soprattutto la penultima o la terzultima che ho fatto e vai a guardare il volto di Bergoglio quando deve venerare la madre di Dio e guarda il volto di Bergoglio quando venera la madre terra la dea madre la dea paciamama che è un idolo pagano satanico per il quale non c'è alcun motivo che venisse intronizzato in Vaticano quindi lui è idolatra poi se chiede preghiera va bene questo può essere anche persino commovente bisogna vedere lui che cosa chiede poi cioè a che cosa serve questa preghiera se serve al tenerlo dov'è per continuare a rovinare le anime naturalmente è una preghiera che non va fatta perché lui in realtà da quando siede sul trono di Pietro da sette anni a questa parte non fa che rovinare sta rovinando proprio l'armonia presente nella chiesa cattolica non è che i problemi mancassero soprattutto col concilio vaticano secondo però non eravamo nella condizione penosa nella quale Bergoglio ci ha cacciato e quindi poi naturalmente io non voglio convincere nessuno che me importa a me io dico le cose come le vedo come le penso porto le prove poi non è che diciamo me ne faccio se te non ti vuoi convincere diciamo tieniti pure Bergoglio come Papa venera la Pachamama domani inizia pure una novena per proteggere le falde acquifere del Congo e poi fai un triduo alla Pachamama per gli alberi dell'Amazzonia ti raccomando anche di cominciare a fare una 30 messe gregoriane per l'anima immortale di Eugenio Scalfari nello stesso tempo vedi se visto che non riesci a sganciarti dalla santità di Bergoglio vedi bene di venerare adorare Gesù che fa lo scemo che è sporco e che si è fatto per noi diavolo ecco se questo non ti basta io non so che cosa altro suggerirti se non che la Trinità sta ancora lì a litigare tra di loro a porte chiuse queste sono le alte definizioni dommatiche del falso Papa Bergoglio poi ognuno ha ciò che merita ecco similis cum similibus io me ne sto con Benedetto XVI poi nessuno è costretto a dovermi credere c'è libertà in questo senso di scelta bene vedo che non arrivano altre telefonate quindi forse per questa sera possiamo chiudere vi ringrazio perché siete stati quasi mille in diretta un numero rilevante per una catechesi del tutto dobbatica senza titoli a effetto arriva la telefonata allora proviamo avanti ecco se no poi dicono che non rispondiamo pronto? pronto? si è lodato Gesù Cristo si è lodato Gesù sempre si è lodato e Nino da Napoli Nino Consone dimmi Nino da Napoli dimmi pure eh no volevo fare una domanda però in questo momento ha detto Don Alessandro che non non ha mai parlare in questa serata di bel gollo in realtà io gli volevo fare un'altra domanda va bene falla pure falla pure pronto? si si sto qui però in questo momento è arrivata un'altra telefonata ah eccomi allora scusate scusi Don Alessandro non avevo capito di essere in diretta pensavo se si parla allora lo suo collaboratore niente Nino da Napoli si è lodato Gesù Cristo si si ma fai la domanda su Bergoglio avevo sentito tutto già ah ok dunque la domanda era questa io ho fatto un'osservazione diversa circa il fatto che lui abbia rinunciato al titolo di vicario di Cristo non tanto del fatto che lui non si definisca Papa perché in effetti non si interessa di essere Papa ma lui vuole solo comandare piazzare i suoi uomini si 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 ma non sto facendo non so con chi parla che c'è un sdoppiamento peccato è cascata la linea mi sembra vabbè comunque la prossima non so che dire pazienza non so non so a un certo punto non si è capito bene con chi intendeva a parlare non so con chi intendeva a parlare vabbè però è interessante è interessante questo tentativo estremo di salvare il bandolo della matassa è lo stesso di poco fa vediamo e poi concludiamo pronto? eh sì sono io sei sempre tu ma devi parlare con me o con altri dimmi pure sì allora dunque la domanda era questa perché in effetti sto seguendo anche dal computer quindi c'è una discrepanza di tempi ecco la domanda era questa Bergoglio ha denunciato secondo me al titolo di vicario di Cristo per il semplice motivo che lui ha eliminato Cristo dalla Chiesa quindi coerentemente certo non ha nessun interesse ad essere vicario di un qualcosa che lui non riconosce più certo certo quindi è coerente con la sua diciamo innaturale immonda logica certo finisco così questa era la domanda che io volevo capire ho capito no più che una domanda è un'osservazione grazie e Dio ti benedica ecco ecco Dio ti benedica no va bene ma è un'osservazione una constatazione direi che abbiamo già fatta e mi pare già ieri sera io stamattina forse in una delle telefonate sì certo lui Bergoglio ha eliminato il titolo di vicario di Cristo che è presente peraltro anche nel codice di diritto canonico probabilmente perché lui guida una chiesa che non è più quella di Gesù Cristo quindi non rappresenta Gesù Cristo questo è evidente lo ha detto Giuseppe stamane da Roma lui guida rappresenta solo se stesso non Gesù Cristo perciò è coerente con questo tipo di scelta ecco e le stelle stanno a guardare allora bene mi hanno detto che questa è la serata delle stelle cadenti così che mi sono messo un po' sotto la tettoia non vorrei che non volevo che me ne scendesse una in testa proprio adesso mentre vi ricordo che domani a Dio piacendo 11 e 12 agosto è la festa nel calendario liturgico tradizionale di Santa Chiara la socia la compagna di San Francesco d'Assisi domani mattina nella rubrica Santi e Caffè ne parleremo intanto su tutti voi miei cari invoco la benedizione del Signore augurandovi in questi giorni che ci preparano la Pasqua di Maria una notte serena e un riposo tranquillo benedicat vosso dipoters Deus pater et filius e spiritus santus ame sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria grazie a tutti